Sì, se tutto andrà bene, in un mese, un mese e mezzo riusciremo a pagare tutte le nostre date arricchiate. Ozzate, parassita, ozzate! Noi fattiamo tutti i testi a mano da un giuletto qua, ma ti rendi conto? Ma dai, sta, forse la chiuffa lì da qualsiasi... E calmati me tutti! Tu sei tesoro, vedi aiutare? Vito, ho spicciato, chiudimmo. Possiamo chiedere l'ospitalità, no? Finché troviamo una casa. Matele, quando state? La casa la giustiamo, è bene e buonato. E' un morangelo così stanotte, vengono, eh? Siamo un anzi, allora, ti procuro a benzina, ti ammete qualcosa da mangiare, va bene? Qui non vorrei morire, mio paese. Reconcetta, ma queste cose te le inventi? Camina, vengono, ci te spicci. I pomodori e le fave, ci le inventi qui. Ah, un verbo! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Mi stai sentendo oggi? Posso? Non ti amparoare con mostri che va bene all'esterno. Cigeta, offeso! Picci il nedro! E allora offendete, va? Buon samaritano! Ecco, io non ho tenuto tenerezza per ciò ebri, manco per l'Aina. Non ti permette con me tutti così, hai capito? Non ti pensare che è stato facile per me tutti e cresciusula. Anche non ci ha dato tutto! L'unica cosa che era buona che facevi è che non mi facevi proprio nascire. Anche non ci ha dato che non mi facevi per me. Grazie a tutti.